Parte Zienischi, pallone sul secondo, palo colpo di testa e palla in rete, Ostigard porta in vantaggio il Napoli al sedicesimo minuto, alla prima chance, il Napoli passa. Alnquist si accentra, non c'è spazio per il tiro, poi il pallone è giocato e conclusione con la parata di Meret, questo è il tentativo di piazzarla da parte di Christovic con la parata di Meret. E' uno schema con la palla che rimane in campo, Strefezza la butta dentro, occhio a Pongracic che si gira e calcia senza trovare la porta. Anghissà, prova ad andare in mezzo a due, scambia con Kwaratschelia, ancora Anghissà, poi Simeone, scambio con Zienischi, Simeone, zona tiro, Simeone ci prova e sfiera il gol del 2-0. Zienischi, Zienischi in aria, Zienischi! Solo esterno della rete. Ramadani, che alla fine non riesce a controllarla, allora il Napoli può andare in contropiede con Osimen per Kwaratschelia, ancora il georgiano, accelera Kwaratschelia, non lo molla Ramadani. Buona la sterzata di Kvara che entra in aria, il cross per Osimen, palo rete, raddoppio da parte del Napoli al 51esimo. Vittor Osimen, appena entrato, va subito a segno, quinto in campionato e Napoli sopra di due. Ancora Anghissà, occhio al traversone che parte sul secondo pallo proprio diretto verso Piccoli! Solo esterno della rete. Raspadori va dentro a cercare Gaetano che trova il gol del Tris all'ottantottesimo. Gaetano chiude la partita al Via del Mare, Lecce 0, Napoli 3. Ancora Politano, cerca l'inserimento di Raspadori, poi giù Gaetano, calcio di rigore. Parte Politano, rincorsa lunga Politano, va col mancino e non sbaglia il gol della Poker. Lecce 0, Napoli 4. Finisce così con il Lecce sconfitto dal Napoli. 4-0 in favore dei Partenopei.